si guardano una guarda lì è rimasto dovevano stare ancora perchè si portano a cambiare oh è vice popoletta si dice la città è stessa no 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 guarda come sono faccia 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 non è non faccia faccia no faccia faccia non faccia adesso faccia la macchina è valida la prima posizione la prima posizione Il Presidente Soliano all'interno con la Grande Partia di Soliano in seconda posizione sta dando anche la Grecia che è in vicino a posizione, il secondo è il Soliano, il terzo è l'universale è il Soliano che sta passando a questo momento e guadagna la prima posizione, sono appagliati e le spavano a questo passico nel Soliano che da meno ancora credo che non si arrede alla seconda posizione, ma è visto il Soliano, è la prima posizione che sta all'attacco pusciati, io dall'interno, perché dall'interno le fitte non sono, ma qui ce l'hanno portato Grazie.